buongiorno ragazzi abbiamo appena effettuato una smart 453 gli abbiamo fatto il tagliando e relativi filtri quindi adesso dobbiamo risettare la spia del service cominciamo accendiamo il quadro due scatti ok e ci dice manutenzione scaduta da 216 giorni quindi con questo tasto qui e poi c'è anche la pressione dei pneumatici con questo tasto qui andiamo a cercare andiamo a cercare la voce eccola qui una volta trovata teniamo premuto questo tasso è un'operazione un po lunga adesso tra un po comincerà a lampeggiare la scritta e dobbiamo rimanere comunque premuti ecco adesso lampeggia aspettiamo che finisce di lampeggiare e ci dà la conferma sempre premuto è un'operazione un po lunga ci mette un po ecco qua prossima manutenzione 20 mila chilometri ecco qui è un po' più